Ok ragazzi, quale migliore occasione per parlare del comodato d'uso se non quella di analizzare la conversazione appena resa pubblica fra Silvio Berlusconi e Barbara Guerra? Insomma, se parliamo di diritto affrontando argomenti di attualità, che cosa potrà mai andare storto? Grazie a tutti liberalità a favore delle ragazze che partecipavano alle sue cosiddette cene eleganti. Si sentiva infatti responsabile nei loro confronti per un presunto danno all'immagine che queste avevano riportato quando erano rimaste coinvolte in qualche inchiesta che riguardava il presidente. Non ricordo bene se il danno è stato causato dall'inchiesta Rubi I, Rubi Bis o Rubi Ter, però insomma il concetto di fondo è che Silvio aveva un grandissimo cuore e sostanzialmente voleva aiutare queste ragazze a tutti i costi e d'altronde lui quei costi se li poteva tranquillamente permettere. Per esempio Silvio aveva lasciato per 8-9 anni in uso completamente gratuito una villa sita in Bernaggio a Barbara Guerra, una delle cosiddette olgettine più famose. Ovviamente con la scomparsa di Silvio la proprietà della villa è passata ai suoi figli che sono i suoi eredi e i suoi figli hanno deciso di interrompere la tradizione familiare, hanno deciso di tornare in possesso di quell'immobile e hanno concesso a Barbara Guerra un termine di circa due mesi per sloggiare. E sì ragazzi passare da oggettina a sloggettina è un lampo ed è anche un cambio di stato talmente veloce che non fai neppure in tempo ad abituarti, tant'è che la stessa Barbara Guerra ha incaricato non uno ma ben due legali per ottenere l'intestazione dell'immobile, intestazione che a suo dire è stata promessa da Silvio circa 8 anni fa. E per provare la promessa ha reso pubblica questa conversazione. E detto fra di noi la prudenza di Silvio non era del tutto immotivata, già nel 2015 erano pendenti i due procedimenti contro di lui, il cosiddetto rubibis e il rubiter. Il rubiter peraltro come procedimento aveva proprio per oggetto l'ipotesi di corruzione dei testimoni e Barbara Guerra, se tanto mi da tanto, era all'interno di quella famosa lista. Teniamo presente che alla fine Berlusconi verrà assolto da questa accusa, ma verrà assolto nel 2023 e quindi pochi mesi prima della sua sconfarsa. Chiusa questa parentesi storica, proviamo a ragionare sotto il profilo del diritto. Qui in pratica Silvio fa una promessa puramente verbale a Barbara dicendo Per ora ti lascio incomodato d'uso questa abitazione, un domani quando si avvererà una determinata condizione, nel caso specifico l'essere assolti da un determinato processo, farò un atto di liberalità e ti donerò questa casa. Di fatto Silvio è stato effettivamente assolto in Cassazione, se non erro, il 13 o 15 febbraio 2023, ma poi non ha proceduto a tener fede alla parola data. Ricordo che probabilmente era già abbastanza malato e avrà avuto altri problemi e altre cose da seguire. Barbara verosimilmente non sarà tornata all'assalto per pretendere la donazione e la situazione è rimasta esattamente com'è. A questo punto, con Silvio finito due metri sottoterra, poveraccio, Barbara vuole l'intestazione della casa. Potrà ottenerla? La risposta, a mio modesto parere, è no, per un motivo molto semplice. La donazione è un atto di liberalità, è un atto volontario, non è un contratto vero e proprio, perché manca la controprestazione. Un contratto di solito ha sempre una controprestazione. Quando andate ad acquistare qualcosa, anche solo in edicola, concludete un contratto di compravendita. Il contratto di compravendita prevede che voi diate delle monete per un determinato valore all'edicolante e che lui vi passi un quotidiano o una rivista. La controprestazione c'è e quindi bisogna anche disciplinare l'inadempimento, perché non è possibile che una delle due parti venga danneggiata. Invece, per quanto riguarda le donazioni, il discorso è più semplice e complesso al tempo stesso. Essendo un atto di liberalità, non c'è una tua controprestazione. Se la ricevi, bene, hai qualcosa in più nel tuo patrimonio, ma se non la ricevi, il tuo patrimonio comunque resta quello che è. Non ci perdi letteralmente nulla. E proprio perché è un atto di liberalità, non puoi costringere nessuno a donarti nulla. Oltretutto, le donazioni degli immobili vanno fatte per iscritto e per atto pubblico. Quindi la promessa verbale non ha alcun valore e in questo senso si è sempre espressa alla nostra Corte di Cassazione. Ecco perché l'iniziativa di Barbara, a mio modesto parere, non potrà avere successo. Altra piccola parentesi per quanto riguarda invece il comodato d'uso. In base all'articolo 1810 del nostro codice, se nel comodato non viene apposto un termine, e cioè non scrivi nell'accordo di comodato, ti lascio questo bene fino al 2025, 2045, 2050 o quello che è, il comodante può sempre chiedere al comodatario la restituzione del bene in qualunque momento. Ora, Silvio aveva stretto un contratto di comodato d'uso con Barbara. Quindi, chiaramente, non avendo apposto alcun termine, gli eredi di Silvio possono chiedere indietro, o meglio, possono chiedere la restituzione dell'immobile in qualunque momento. Ed evidentemente i figli di Silvio si sono avvarsi di questa facoltà, concedendo a Barbara due mesi per preparare armi, ma soprattutto bagagli, e andarsene. Poi, naturalmente, sarà interessante vedere qual è la strategia dei legali di Barbara, ma al momento attuale le sue possibilità di successo sono minime. Questa storia ci insegna principalmente due cose. Primo, la donazione è un atto di liberalità, non la puoi pretendere. Per cui, se te la fanno bene, se non te la fanno, sappi che non puoi ottenerla utilizzando altri mezzi. Seconda cosa, quando stipulate un contratto di comodato d'uso, a seconda che voi siate il comodante o il comodatario, valutate bene se apporre o meno una data che indichi la durata del comodato. Se stabilite la durata, sapete che per quel periodo state tranquilli. Viceversa, se non inserite la data di scioglimento del comodato, potete chiedere indietro il bene in qualunque momento. Tenete presente questo dettaglio perché è importantissimo. Capita anche che c'è gente che prende una casa incomodato, la sistema, la ristruttura, e poi le viene chiesta indietro alla prima occasione. Capitano anche situazioni di questo tipo. Quindi, normalmente, è bene essere prudenti e se avete qualche dubbio, contattate un avvocato di vostra fiducia per ricevere dei consigli di merito. È sempre meglio prevenire piuttosto che poi fare causa, come in questo caso, peraltro. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritte due righe qui sotto. Se poi vi piace il mio canale, ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanella, condividere i link con gli amici e lasciare un grande e grosso mi piace. Per voi si tratta solo di pochi click, ma per il canale significano davvero tanto. Inoltre, se non farete tutto questo, in un futuro puramente eventuale, alternativo e certamente remoto, potreste ritrovarvi a dover ospitare una sloggettina in pianta stabile nella vostra abitazione. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.